Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati qui su Star Wars Battlefront, siamo nella modalità zona di lancio Praticamente vengono lanciati, vedete, dei gusci e bisogna difenderli dalla squadra avversaria E Vince che arriva prima ha 5 gusci difesi, quindi bisogna togliere l'avversario o se si conquistano per primi difenderli dall'avversario Praticamente sarebbe una specie di cattura alla bandiera, si può chiamare così a livello di Call of Duty Qua nel frattempo, vedete qui, che quello lì ha una specie di guscio protettivo Dobbiamo ora, vedete, ecco mi hanno appena sparato, sempre quello di prima Noi dobbiamo ora cercare di difendere questo guscio e non farlo prendere agli avversari, anche se la vedo dura Ecco qua, uno nel frattempo l'ho killato, muori anche tu, e quindi ora lo possiamo difendere Ecco no, dobbiamo già rivendicare Guardate qua questo, ma guardatelo, era da solo, accanto c'era un nostro amico Cioè non si erano visti che erano uno accanto all'altro ed erano nemici, ragazzi, incredibile Questa è un epic fail di quelle assurde Attenzione che è qui uno, protetto dallo scudo Eh qua, ti killo io, protetto bastardo Ragazzi, i miei compagni non è che li vedo sinceramente molto per la quale Qua, tu muori, protetto bastardo Ecco qua, l'abbiamo recuperato Attenzione, via da qua Eh tu muori Tutto bastardo, vaffanculo Eh l'abbiamo, no, l'hanno preso all'ultimo L'hanno preso all'ultimo secondo, ragazzi, attenzione, tu muori Ecco qua, muori Eh, muori, fuori due Eh, no Bastardo Però ragazzi, hanno fatti fuori tre Nel frattempo abbiamo pareggiato, quindi abbiamo difeso il guscio Quindi proviamo a difenderlo Ok, ragazzi, l'hanno già rivendicato Muori No, voleva killarmi con una bomba, ma non ci sei riuscito Mi dispiace Tu dove cazzo vai? Muori anche tu, va Guardate quel brutto bastardo Ragazzi, io direi di buttargli una bombetta lì Ecco qua, salta all'aria ancora Attenzione ragazzi, difendiamo il guscio Eccolo qui, non se l'aspettava L'avessi visto e qui mi ha ucciso Però ho venduto a cara la mia pelle, ragazzi Ho fatto anche serie di uccisioni, ho visto prima Col fucile E tu muori Tu muori malamente, muori Eh, muori tu, fanculo No, sconfitta ragazzi Non siamo riusciti a rivendicare due guscio A uno per loro, attenzione Eccoli qua, li ho presi da dietro infatti Quello che volevo Fare, no, ma c'è un altro dietro di me Nooo Mi ha fatto detonare ragazzi E qua muori, vaffanculo Sconfitta ancora ragazzi 3 a 1 Cioè sto giocando praticamente quasi da solo Non trovo mai compagni Ragazzi, vi ho detto Qui è un gioco di squadra Se Proteggente che va girando per la mappa Senza Una tattica così Una strategia È difficile Ora qui dobbiamo difendere Spero che abbiano capito Che difendere significa Eh, muori anche tu Ok ragazzi Io provo a difendere Da qui Perché sapevo Eh, infatti Però ti ucciso anch'io La sapevo ragazzi Che c'era un altro da dietro L'avevo Intuito Perché avevo sentito sparare Muori Ma dobbiamo difendere Mori anche tu È nulla da fare Da fuori ragazzi La mia squadra non c'è proprio ragazzi Ogni volta perdono sempre Il guscio In difesa Sempre Sempre ragazzi Sono praticamente Dico da solo a giocare Ma quasi Poi vedrò che risultato sto facendo Vedi, già hanno preso il guscio Già l'hanno preso Cioè stanno Vincendo in una maniera Facilissima Ma guardate quello Era lì Guardate ragazzi Guardate qui È nulla da fare Stanno buttando di tutto Giocano molto bene Quelli della squadra avversaria È nulla da fare ragazzi Sconfitta Abbiamo perso 5 round A uno solo Ok ragazzi Io sono arrivato Però secondo E guardate La differenza È di 25-15 Quindi praticamente Sono quello che ha fatto Più kill Nella mia squadra E mi sa anche Nell'altra Perché nell'altra squadra Ho visto che hanno fatto 23 kill Nonostante questo Non sono 3 più mi 3 Perché veramente Sono della squadra Perdente Comunque ho fatto Un'ottima partita Nominamento Vedete Sono arrivando Alla rango 10 Stanno andando Verso Rango 11 Grazie a queste prestazioni Ok ragazzi Allora io sto notando Una cosa Che vi volevo dire Dei video Questo gioco Ha poche visual Non è che io ne abbia Moltissime Perché comunque Non è che ne ho molte Ma rispetto ad altri giochi Questo gioco qui Ho notato che ha poche visual E la cosa Mi dispiace Molto Perché ragazzi Questo gioco È stupendo Quindi vi invito A guardare i video Di Star Wars Battlefront È veramente Bello È un tipo Tipo Battlefield Ma Con scenari Diversi E con i personaggi Star Wars Però È come Battlefield Più o meno Secondo me È più bello Quindi ragazzi Mi raccomando Guardatevi I prossimi video Che faccio A partire da questo Di Star Wars Battlefront Ok Ragazzi Come sempre Vi invito al share Like Commentare Condividere Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Consigliate i vostri amici Qui da un giro Nel 83 Tutto Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao